Sono qui col Presidente Francesco Toscano, io come coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare. Siamo stati ricevuti dal sottosegretario Fazzolari e dallo staff del Presidente del Consiglio Meloni. Abbiamo esposto questo tema di grande democraticità, che è il numero di firme necessario per raccogliere la presenza alle europee. Le nostre valutazioni sono la riduzione a un quarto delle firme, pari cioè a 37.500, che è una cifra importante, una cifra superiore alle recenti elezioni politiche del 2022 ed abbiamo fatto anche riferimento alla riduzione a un quarto delle elezioni politiche nel 2018. Siamo stati ricevuti e siamo soddisfatti della modalità con cui siamo riusciti a esprimere queste valutazioni che verranno poste all'attenzione del Consiglio dei Ministri, che sarà in corso nella giornata. Questo è quello che potevamo dire, è un elemento di grande democraticità, attendiamo l'elemento che uscirà dall'eventuale Consiglio dei Ministri e da un eventuale decreto. Grazie, arrivederci.